La Terra nel tempo e nello spazio. Questa sera siamo qui riuniti per parlare del tema La Terra nel tempo e nello spazio. Sapete che il mondo là fuori insegna che la Terra ha milioni e milioni di anni e questa evidenza è presentata come irrifiutabile e qualcuno potrebbe chiedersi se esista un altro modo di vedere la storia. Per questo vorrei parlare di questo argomento e presentarvi alcuni pensieri. E come vi ho detto quando inizialmente ci siamo salutati, io non desidero indottrinare nessuno, ma vorrei soltanto formulare l'altra visione della storia, in tal modo che le persone possano avere la possibilità di scegliere. Attraverso i media, nelle scuole, nelle università, nelle librerie o dovunque qualcuno possa andare, si è sempre soggetti ad una sola forma di informazione. Questo non è giusto, entrambe le visioni dovrebbero essere disponibili in maniera tale che le persone possano scegliere essendo informate. La Bibbia dice, Isaia 40, 22. Egli è colui che sta assiso sul globo della Terra, i cui abitanti sono come cavalletti. Egli distende i cieli come un velo e li dispiega come una tenda in cui abitarvi. Qui c'è appunto il riferimento al Dio della Bibbia che ha formato i corpi celesti. Ed in una certa strana maniera la scienza ha attualmente reso nota una divinità, ad esempio attraverso una nebulosa chiamata l'Occhio di Dio, in una fotografia di un telescopio della NASA. Ci viene detto inoltre, come fatto naturale, che noi siamo solo un pianeta insignificante, in un insignificante sistema solare, in un insignificante galassia, che fluttua da qualche parte ai margini con un'insignificante posizione in un universo che invece è gigante. Probabilmente c'è molta verità in tutto questo. Prendiamo per esempio una stella come Betelgeuse, nella costellazione di Orione, e possiamo vedere che essa è una stella enorme, perché qui vediamo l'ampiezza del Sole, inclusa l'intera orbita terrestre. E invece qui l'ampiezza include l'intera orbita di Giove. Perciò questa è veramente una stella enorme, se comparata con la nostra, che invece è proprio un piccolo oggetto. La letteratura scientifica ci dice come ogni cosa abbia avuto un inizio, come si siano formati i pianeti, la prima Terra, tutte le particelle e la polvere che si è coagulata. Ed una delle più importanti teorie oggi è certamente la teoria del Big Bang, la quale cerca di dare una visione naturalistica all'origine delle cose, ed in opposizione a questa, l'idea che Dio abbia creato tutte le cose in un lontano passato. Questo è uno studio molto affascinante e vorrei dire qualcosa di più riguardo ad esso. Dunque, l'idea è che in uno specifico momento ogni cosa che vediamo nell'universo era concentrata in un punto particolare e qualunque cosa vi fosse stata lì esplose e si propagò in un vasto universo alla velocità di un respiro. E questo universo oggi è ancora in espansione. Ciò che gli scienziati fanno è guardare la luce che proviene da oggetti distanti notando un fenomeno chiamato redshift. Quando le onde tese diventano più lunghe, mentre se le onde di luce sono compresse, si può vedere uno spettro più corto e ciò è chiamato blueshift perché le onde tendono a dare il blu mentre quelle più lunghe, il rosso. Quindi, proprio perché ogni cosa tende a dare un redshift, l'idea è che le onde debbano essere tese perché gli oggetti si stanno muovendo lontano da noi. L'universo è quindi in espansione. Diventa così facile estrapolare a ritroso il perché tutto si sta espandendo ora. E questo vuol dire che tutto dovrebbe essere stato molto più vicino nel passato. E quindi è concepibile che forse fosse tutto così vicino da essere concentrato in un solo punto. Questa è la base della teoria del Big Bang. Quindi il punto è che ci sono circa 125 miliardi di galassie, ognuna delle quali con 200 miliardi o più di soli e la distanza è così vasta in ogni singola direzione da non poter nemmeno immaginare. Sembra proprio che siamo così piccoli da essere un punto insignificante in una qualche parte dello spazio. Ora, la storia riguardo il redshift e tutti questi temi sull'universo è molto interessante. Salmi 8, 3, 4, 9 dice Quando considero i tuoi cieli che sono opera delle tue dita la luna e le stelle che tu hai disposte che cosa è l'uomo? Perché te ne ricordi? O eterno Signor nostro quanto è magnifico il tuo nome in tutta la terra. Si suppone che i cieli vogliano dirci qualcosa circa la magnificenza di Dio secondo le scritture. Se cercate nella galassia vedrete un'immensa concentrazione di stelle e questo è il problema alla base. Se l'universo in un certo periodo del passato fosse stato concentrato in un punto infinitesimo e questo fosse esploso e si fosse diffuso in tutta la vastità dello spazio vi dovreste aspettare che tutta questa massa sia distribuita in maniera uniforme questo viene chiamato il principio cosmologico la distribuzione di tutto ciò che esiste in questo vasto universo non è ciò che vedete infatti ciò che vedete è la concentrazione di materiale in grappoli e gruppi in vari luoghi ciò che si vede inoltre sono galassie a spirali enormi galassie e super galassie raggruppate insieme e disposte a spirale una intorno all'altra non vi dovreste aspettare questo ma una distribuzione uniforme di materia in altre parole non dovreste aspettarvi niente perché se ci fosse stata una prima esplosione di energia che si è concretizzata in materia ci sarebbe stata una stessa quantità di materia ed antimateria che si sarebbero annullate l'un l'altra quindi l'universo sarebbe composto solamente di energia se fosse accaduto realmente un evento del genere ma non è così c'è un'immane propensione alla materia e non all'antimateria Nemia 9.6 dice tu solo sei l'Eterno tu hai fatto i cieli i cieli dei cieli e tutto il loro esercito la terra e tutto ciò che sta su di esse i mari e tutto ciò che è in essi tu conservi in vita tutte queste cose e l'esercito dei cieli ti adora questo è in totale contrasto con la teoria naturalistica riguardo le origini secondo la teoria del Big Bang l'universo è stato creato tra i 10 e 20 miliardi di anni fa da un'esplosione cosmica e casuale questa è l'idea che sta alla base e Alan Guth e Steinhardt del Scientific American dell'84 scrivono l'universo osservabile può essersi sviluppato da una regione infinitesima ciò significa un punto o forse più piccolo di un punto forse ancora più piccolo delle dimensioni di un atomo è quindi allettante fare ancora un passo in avanti e speculare che l'intero universo si sia sviluppato praticamente dal nulla questo è interessante ed è un'affermazione scientifica pronunciata da scienziati in un giornale scientifico e l'idea sembra essere che tutto fosse concentrato in un punto e che questa esplosione venga dal nulla ed abbia creato tutto l'assunzione filosofica con cui ci dobbiamo confrontare è per prima cosa la relatività generale e il principio cosmologico che fondamentalmente dice che ogni cosa si sia diffusa ugualmente nonostante niente si sia materializzato ma questo non è il nostro caso perché tutto è concentrato in gruppi di materia questa è una problematica un professore di astrofisica dell'università di Nottingham ammette saremmo persi se le fondamenta su cui si basa il Big Bang crollassero rimarremmo senza spiegazione sul Big Bang sulla formazione delle galassie o la distribuzione delle galassie nell'universo ci sono scienziati che stanno dicendo perché la materia non è distribuita uniformemente c'è un altro problema il Big Bang viola anche la legge della conservazione del momento angolare spieghiamo questo ogni cosa gira intorno a se stessa quando vediamo il nostro sistema solare i pianeti ruotano attorno alle stelle e le lune attorno ai pianeti notiamo che ogni cosa si muove circolarmente se ci fosse stata un'esplosione un tempo da un centro e questa esplosione si fosse espansa in ogni direzione qualunque cosa sarebbe uscita in maniera rettilinea in ogni singola direzione ma questo non è ciò che vediamo noi vediamo momenti angolari e non momenti lineari noi vediamo ogni cosa che circola quindi un'altra domanda è come mai va tutto in maniera circolare invece che nell'altro modo tutto va in maniera circolare perciò l'idea che mi viene in mente è c'è una possibilità che potrebbe spiegare perché va tutto in maniera circolare forse il punto originale andava in moto circolare ha senso questo? ora si immaginiamo di bambini che stanno su una giostra che gira in un parco giochi e questa sta girando velocemente ad un certo punto raggiunge una velocità tale che i bambini sono costretti ad attaccarsi subendo una forza centrifuga verso l'esterno e non avendo più la forza per mantenersi i bambini lasciano la presa volano via quindi la legge del mantenimento del momento angolare dice loro avranno uno spin mentre volano nella stessa direzione che possedeva l'oggetto di partenza se quell'oggetto andava in direzione oraria anche loro avranno uno spin in direzione oraria ha senso questo? questo può spiegare perché tutto va in maniera circolare perché forse inizialmente il punto originario aveva un moto circolare e quindi oggi tutto va in maniera circolare e dovunque guardiate in questo vasto universo troverete cose che vanno in senso circolare e quindi la scienza dice che tutto si è espanso in tutte le direzioni Amos 5.8 dice cercate colui che ha fatto le pleiadi e orione è interessante che siano nominati questi due sistemi di stelle e le pleiadi o anche dette le sette sorelle è qualcosa conosciuto come un gruppo legato e questo è molto affascinante Giobbe 38.31 puoi legare le catene delle pleiadi le puoi tenere assieme questo è qualcosa che la scienza ha recentemente scoperto ovvero che questo è un gruppo di stelle legato ciò vuol dire che la gravità del sistema è uguale alla forza che tenderebbe a separarle così queste riescono a stare insieme o contrariamente o sciogliere le corde di orione i sistemi nella cintura di orione si stanno separando l'uno dall'altro alla velocità di un respiro ed è interessante come questa cosa sia già presente in Giobbe 38.31 ma il principio generale è che le cose sembrano muoversi separatamente in modo circolare qualche volta secondo modelli complicati ma il problema sono i gruppi globulari e la concentrazione di materia nell'universo che dovrebbe essere uniformemente distribuita ma non lo è anche Einstein riconobbe questo problema e si avvicinò all'idea di contrastarlo ma diede a questo una soluzione teorica e non pratica cosa vuol dire la legge della conservazione del momento angolare ogni cosa nell'universo ha uno spin pianeti stelle galassie ci vorrebbe un'enorme quantità di energia per mettere in moto lo spin di un pianeta qualcosa chiamato inerzia i sostenitori della teoria del Big Bang propongono che la singolarità che era in procinto di scoppiare nel Big Bang possedeva già uno spin che esplose così ogni cosa che era all'interno di esso possedeva uno spin nel momento in cui scoppiò qui c'è un problema alcune galassie e pianeti come Venere Urano e Plutone e molte lune hanno uno spinning nel senso inverso chiamato movimento retrogrado qual è il problema? anche qualche luna ha un'orbita retrograda intorno ai loro pianeti che vanno nella direzione sbagliata qualcuno va in un senso qualcuno nell'altro mentre Giove Saturno Urano e Nettuno hanno lune che orbitano in entrambe le direzioni questo è un problema serio c'è una galassia chiamata NGC 4622 che sembra ruotare nella direzione opposta a tutte le altre galassie e questo è un altro problema serio cosa pensare di tutte queste cose che stanno andando nella direzione sbagliata come pianeti e lune? il problema è che si dovrebbe dire che qualcosa abbia fermato lo spin e lo abbia sollecitato nell'altra direzione questa dovrebbe essere un tipo di forza che avrebbe dovuto gettare i pianeti in differenti direzioni e che avrebbe dovuto fare questo in tutti i luoghi anche all'interno dello stesso sistema un evento altamente improbabile anche questo sembra violare l'idea ci sono molti scienziati che hanno molti problemi con il Big Bang e c'è un articolo in Natura che dice che il Big Bang non è morto ma è in declino e questo implica anche un'età dell'universo molto più piccola dell'età conosciute delle stelle nei gruppi globulari della nostra galassia questo è ciò di cui si interessa la teoria del Big Bang i sostenitori del pro e contro hanno formulato tesi a riguardo ma almeno possiamo dire categoricamente che non tutti dicono questo ed è ciò che è successo infatti ci sono molti che dicono che non sarebbe mai potuto succedere in questo modo ed è giusto ascoltare l'altra visione della storia e l'esplorazione dello spazio e ciò che la scienza ha imparato nelle ultime decadi è qualcosa di meraviglioso che stimola la mente la storia attualmente va anche oltre tutto ciò dal Big Bang si ebbe un'esplosione che originariamente era energia e un insieme di quark che sono particelle subatomiche poi successivamente si formò il primo atomo che non si sarebbe dovuto formare perché distrutto dalla materia ed antimateria presente nello stesso momento e poi abbiamo l'idrogeno tutto l'universo era pieno di idrogeno e forse un po' di elio e qualcosa di leggermente più grande ma fondamentalmente c'era dell'idrogeno in cosa consistiamo noi? quali elementi ci sono nel nostro corpo? tutti dal carbonio fino a tutti quelli che possiamo immaginare praticamente incorporiamo tutta la tavola periodica degli elementi e da dove viene tutto ciò? se tutto si fosse evoluto naturalisticamente da dove verrebbero tutte le altre particelle? se c'era solo una vasta nuvola di gas consistente solo in gas più leggeri? bene la scienza insegna che questi composti si sono formati in quel periodo in maniera che oggi sono qui presenti quindi com'è accaduto questo? la ragione è che i gas si sono fusi l'un l'altro fossilizzandosi in un sistema e contraendosi grazie alla gravità con tutti gli elementi uno sopra l'altro fino a che si sono formate le stelle e nelle stelle abbiamo la fusione nucleare che ha creato così tutte le altre componenti poi le stelle sono esplose come i supernove e hanno diffuso tutti gli altri materiali nello spazio questi stessi si sono ricomposti di nuovo in altri sistemi in questo modo abbiamo tutti gli elementi di cui abbiamo bisogno però c'è un problema importante in tutto questo come fa un gas che si espande in un vasto universo ad essere compresso da questa gravità fossile formando le stelle questo è un problema rilevante in quanto tutto poi si ridefinisce e si forma altro materiale grezzo per iniziare il processo evolutivo naturalistico fino al punto di avere i primi esseri umani questo è fondamentalmente ciò che viene insegnato originariamente c'era solo materiale inorganico e questo materiale si è raccolto in qualche pianeta e su questi pianeti si sono formate spontaneamente molecole organiche e queste stesse si sono unite a loro volta fortuitamente per formare molecole della vita e queste a loro volta per formare cellule e così via fino a formare tutti gli organismi del pianeta questo è ciò che viene insegnato fondamentalmente da cosa viene tutto polvere polvere ricostituita attraverso processi naturalistici per formare tutto ciò che vediamo oggi quindi noi veniamo dalle rocce questo è ciò che viene insegnato e ciò in cui si crede una domanda che qualcuno potrebbe porsi è se sia fattibile che la polvere possa formare la vita e se la vita possa formare gli organismi complessi e le strutture complesse che vediamo oggi è fattibile questo? guidati da un processo che richiede la selezione naturale tratteremo tutti questi temi la scienza insegna che in un certo momento questo processo è iniziato poi abbiamo diversi pianeti in diverse ere che si sono caratterizzati in diversi milioni di anni e la vita è venuta all'esistenza mentre l'evoluzione di macro-organismi di qualunque forma ha avuto luogo negli ultimi 600 milioni di anni questo è un enorme periodo di tempo che ci è stato presentato per vero dicendo questo è quanto è accaduto ed è ciò a cui devi credere ci viene dunque insegnato che sin dalla prima formazione dei macro-organismi sto parlando adesso del mondo pre-biotico il mondo può essere suddiviso sui neoni di tempo che la geologia ha denominato paleozoico mesozoico cenozoico e durante questo periodo gli organismi si sono evoluti ed anche oggi possiamo vedere le tracce di questa evoluzione nelle rocce questa è la paleontologia scientifica la scienza della geologia si preoccupa invece di come la materia si sia formata su questa terra come ha potuto strutturarsi nella posizione attuale e come tutto si è diventato così vecchio nel tempo e distribuito così come vediamo oggi ma questo è vero abbiamo questo tipo di tracce paleontologiche la risposta è sì abbiamo invece queste tracce geologiche la risposta è sì e no perché in nessun luogo sulla terra abbiamo una traccia così completa abbiamo un frammento qui un frammento lì perciò fondamentalmente ciò che vediamo sulla terra è una teoria che la scienza ha messo insieme e non è basata su una colonna definita dalla quale possiamo osservare direttamente non è presente in nessun luogo stasera vorrei dare uno sguardo alle affermazioni di base della geologia domani invece tratteremo degli organismi viventi vedremo come gli organismi si sono evoluti come il mondo ci dice che essi siano venuti all'esistenza e se questo è in linea con ciò che vediamo o meno questa è veramente una domanda importante per la quale le persone possano fare delle scelte sulla base di informazioni guardiamo da prima ad alcune domande sull'età che chiameremo datazione radiometrica la datazione radiometrica è una tecnica usata per dirci l'età degli oggetti e fondamentalmente non è un sistema molto complicato funziona molto bene e si può fare in un laboratorio dove ci sono modi per determinare esattamente il rapporto di certi isotopi affinché funzionino insieme e queste informazioni servono per determinare l'età degli oggetti ma il problema è che bisogna porre certe assunzioni analizzandole una per una la prima ipotesi da porre è che il tasso di decadimento ed il periodo di dimezzamento sono rimasti costanti nel tempo quindi il principio di base è che sia una roccia specifica ed in essa ci sono elementi che decadono a causa di un decadimento radioattivo per esempio la datazione uranio-piombo si ha quindi l'uranio ed un certo periodo di tempo dopo decade verso un certo isotopo di piombo e dopo un certo numero di milioni di anni si ottiene la metà dell'ammontare di uranio che si aveva in precedenza e dopo lo stesso periodo di tempo si ha di nuovo un'altra perdita della metà del materiale questo è ciò che chiamiamo periodo di dimezzamento ed in questo modo si può determinare da quanto tempo questo processo sta andando avanti ma bisogna necessariamente sapere che il tasso di decadimento ed il periodo di dimezzamento sono rimasti costanti nel tempo ci sono dimostrazioni che lo confermano ed altre che non confermano perciò possono essere trovate entrambe le alternative in letteratura il secondo principio è molto semplice se si vuole sapere l'età di qualcosa bisogna anche essere certi che l'orologio sia stato impostato a zero quando si è formata la materia quindi come faccio a sapere l'età di ognuno di voi cosa dovrei sapere se volessi sapere l'età di ognuno di voi devo sapere quando siete nati non è vero? se avessi una data di nascita potrei ricavare quanti anni abbia un certo individuo che età avete nel secondo in cui nascete? zero infatti qualcuno è lì presente con il cronometro ed il momento in cui nascete è registrato e dopo cinque minuti il padre esce fuori con il bambino nelle sue braccia mostrandolo a chiunque sia lì e dice il mio bambino ha quanto? ha cinque minuti di vita per tutto questo devo avere una data di nascita ora se volessi sapere l'età di una roccia come posso sapere quando essa sia nata se non ero lì a vedere la sua nascita? qualche volta si può anche essere presenti quando c'è del materiale vulcanico che fuoriesce dalla terra e si può vedere che essa nasce in quel momento intendete ciò che dico? ma si suppone che le rocce siano antiche io non ero lì nessuno era lì come posso sapere quando sono nate? io non so quando sono nate quindi devo per forza usare una supposizione devo supporre che quando la roccia nacque l'orologio è stato impostato a zero e questo orologio consiste nella trasformazione di un isotopo in un altro perciò devo affermare che quando la roccia nacque solo l'isotopo genitore era lì e nessun altro isotopo figlio e questo è l'azzeramento giusto? adesso questo corrisponde alla realtà o meno? la risposta è che la letteratura abbonda di casi dove ciò non corrisponde alla realtà abbiamo per esempio fuoriuscite di materiale vulcanico dalle rocce proprio adesso nelle Hawaii o in Nuova Zelanda si misurano e si mandano in laboratorio per la datazione che può misurare tutto da pochi milioni a molti milioni di anni di età e questo è il caso in cui l'orologio è stato impostato a zero sì o no? ovviamente no e se l'orologio non fosse impostato a zero quanta fiducia potrei riporre nel sistema di datazione? questo è un altro problema stiamo trattando di un sistema chiuso ovviamente se devo accingermi a determinare il rapporto di uno con l'altro deve essere un sistema chiuso e immaginate che qui davanti abbia un cronometro come una clessidra ed immaginate che sia qui davanti a me la capovolgo e tutta la sabbia è nella parte superiore ed in basso invece ho delle linee che indicano i minuti e dopo un minuto la sabbia è scesa e ha riempito la parte sottostante fino alla prima tacca e quindi riconosco che è passato un minuto dopo un altro minuto la seconda linea dopo il terzo minuto la terza linea eccetera questo è il modo in cui funziona il cronometro ora cosa succederebbe se ci fosse un foro nel vetro in basso e nel momento in cui la sabbia entrasse un po' quanta ne uscirebbe dalla parte sottostante il mio orologio sarebbe accurato o meno? no non sarebbe accurato lo stesso succede con la roccia se sto parlando di una roccia e gli elementi all'interno della roccia hanno la possibilità in qualche modo di fuoriuscire il foro nel mio orologio sarei capace di usare quella sabbia lì dentro come meccanismo per il tempo sì o no? no e il piombo per esempio si dissolve in acqua acida durante una pioggia sì o no? assolutamente sì ecco perché oggi abbiamo inquinamento da metalli pesanti nei nostri fiumi e nei nostri laghi giusto? quindi se piove e l'acqua scorre sulle rocce mentre essa scorre attraverso esse possono essere trasportati via alcuni elementi sì o no? ovviamente sì così funziona sulle montagne e se assorbono l'acqua e formano una grande quantità d'acqua perché riescono a contenerla e l'assorbono come una spugna quindi qui siamo in presenza di un meccanismo che porta via gli isotopi perciò non posso garantire che il decadimento è sempre stato il medesimo non posso garantire che l'orologio fosse impostato sullo zero quando si è formato il materiale perché non è impostato a zero neanche oggi e non sto trattando con un sistema chiuso perciò quanto è affidabile il mio orologio? francamente il mio orologio è inutile totalmente inutile il metodo scientifico che determina un isotopo relativamente ad un altro forse è perfetto ma non significa niente alla luce di questi punti perciò se qualcuno mi chiedesse quanto sia vecchia una certa cosa quanto vecchia può essere tanto vecchia quanto voi vorreste che essa sia vedete quando Einstein non riusciva a capire o il mondo non riusciva a capire cosa accadeva in termini di luce e movimenti della luce come ad esempio se un oggetto si muoveva verso di te oppure si muoveva lontano da te e la velocità della luce rimaneva la stessa nonostante non dovesse non aveva alcun senso ovviamente due oggetti che si muovono l'uno verso l'altro devono arrivare al punto più rapidamente rispetto al caso in cui si allontanassero l'uno dall'altro giusto? qual è stata la sua soluzione? lui arrivò ad una teoria che chiamò relatività e questa è la soluzione di un grosso problema nella scienza questo è simpatico ma è solo una parola non andremo adesso in tutti i dettagli quindi se qualcuno mi chiede quanto è vecchia questa roccia direi è relativo relativo a cosa? relativo al mio paradigma relativo al mio modo di pensare se credo che questa roccia sia giovane non c'è niente che tu possa fare per provare che essa non lo sia e se tu vuoi credere che la roccia sia molto antica non c'è niente che io possa fare per provare che essa non lo sia perciò credete se lo volete che sia vecchia miliardi di anni o credete se volete che sia vecchia solo poche migliaia di anni non c'è niente che possa fermarvi nel credere ciò che volete credere niente e cosa fa a questo punto la scienza con voi per dirvi che dovete credere che quello sia vecchio perché questo è il loro paradigma dire che è relativo voi potete credere qualunque cosa vogliate credere non c'è alcuna dimostrazione evidente che possa forzarvi a cambiare idea e non dovete farlo detto ciò e per favore non sto dicendo che non potete credere a ciò che volete sto dicendo che avete la libertà di scelta nel credere ciò che volete e con questo non sto denigrando nessuno ora diamo uno sguardo a queste rocce la scienza dice che ognuno di questi strati che si possono trovare nella colonna geologica non esistono da nessuna parte in questo pianeta ognuna di esse ha rappresentato un certo tempo che è trascorso in un certo periodo del passato quando ognuno di questi fu la superficie della terra e la vita si è sviluppata in ognuno di essi in modo molto simile a come si sviluppa attualmente oggi infatti abbiamo i cicli della pioggia abbiamo cicli dei cambiamenti climatici abbiamo i cicli di erosione cicli di deposizione e ogni cosa che è accaduta nel passato è la stessa di ciò che sta accadendo oggi perciò ovviamente è logico dire che gli strati inferiori furono i primi poi arrivò il periodo seguente poi il seguente poi il seguente il seguente o potremmo dire che questi sono strati di materiale poi di un altro strato di materiale poi un altro strato di materiale ed un altro strato di materiale notate la differenza non è molto grande ad eccezione di cosa? ad eccezione del fatto che la scienza attribuisce molto tempo ad ogni strato ha senso questo? quindi la scienza dice che ogni strato rappresenta un enorme blocco di tempo perciò quando togliete via uno strato cosa state togliendo? un enorme periodo di tempo mentre se diceste che ogni strato è solo uno strato di fango sovrapposto ad un altro e ne togliete via uno stareste solamente togliendo via uno strato di fango c'è differenza nel pensare questo pensiamoci la scienza ci insegna che il primo strato sul fondo è il più antico poi arriva l'altro poi l'altro poi l'altro e questo è chiamato sovrapposizione ed è molto logico ha molto senso e poi ci viene detto che lo strato più vecchio ha degli organismi come questi questo è ovviamente ciò che è vissuto allora e se si procede un po' più in alto in questo strato qui chiamato ordoviciano abbiamo delle creature come queste se si va ancora più in alto si arriva al siluriano abbiamo creature come queste ancora più in alto nel devoniano abbiamo i pesci ed ogni tipo di cosa ancora più in alto si arriva al permiano dove abbiamo le prime piante di terra e tanti tipi di cose interessanti e poi questi grandi alberi poi si arriva al triassico al giurassico e cretacico dove abbiamo dinosauri meravigliosi tutte queste creature interessanti poi si va ancora più in alto fino all'era cenozoica dove abbiamo i mammiferi e questo è il modo in cui avviene l'evoluzione perciò si comincia con questi organismi marini e poi si passa attraverso i pesci le rane i rettili eccetera non tratteremo di animali stasera ma lo faremo domani diamo uno sguardo alle rocce invece stasera le rocce non sono interessanti come gli animali perciò domani dovrebbe sicuramente essere più interessante abbiamo i dinosauri creature in evoluzione e tutte queste cose ma le rocce sono qualcosa su cui ci si cammina giusto? perciò sono importanti se non fossimo su una roccia avremmo un problema la Bibbia però racconta una storia totalmente diversa la Bibbia ci dice che in un certo periodo vi è stato un diluvio e dice che questo diluvio è durato un anno e 17 giorni ed è abbastanza strano perché molte persone pensano che il diluvio sia consistito solo in una pioggia per 40 giorni e 40 notti e basta ma non è ciò che dice la Bibbia la Bibbia dice che è piovuto 40 giorni e 40 notti la Bibbia dice che le acque del grande abisso prorruppero e il livello dell'acqua è cresciuto per circa 5 mesi poi ha iniziato a scendere e dopo un anno e 17 giorni Noè potette uscire dall'arca oggi questo viene considerato come una fiaba una strana storiella un allegorismo giusto per tenere le persone contente e farne una bella storia per bambini ma in ogni caso questo è ciò che la Bibbia ci insegna perciò ci vollero un anno e 17 giorni per puntare al monte Ararat affinché Noè potesse uscire dall'arca vedete viene detto che egli era molto vecchio quando entrò era molto vecchio quando accadde tutto ciò molto vecchio quando inviò i corvi e le colombe ed era molto vecchio quando lasciò l'arca perciò si può calcolare quanto durò il tutto ed è un anno e 17 giorni con grandi attività che hanno avuto luogo durante questo evento e questo è anche molto interessante se vedete la colonna geologica quello che vedete è un mucchio di fango ed il fango dove si forma? Si forma in acqua se vedete il Grand Canyon per esempio e notate i vari strati vedrete ogni strato sovrapposto al precedente e ricordate quello che la scienza insegna questo è stato una volta la superficie della Terra seguito da questo e seguito dal successivo e così via per tutta la sua altezza quando osservate questi strati notate che si sono accurati i piani e che i bordi tra uno strato e l'altro sono anch'essi perfettamente piani notate? assolutamente piani come se il mondo fosse piano poi arriva un altro periodo di tempo mondiale piano poi un altro periodo di tempo mondiale piano ogni cosa è totalmente pianeggiante enormi strati pianeggianti uno sopra l'altro sono molto gradevoli uno, due, tre quattro, cinque e così via sono tutti schiacciati e piani i bordi tra loro sono molto piani ora ricordate quello che la scienza insegna cos'era ognuno di essi? ognuno era un periodo di tempo terrestre ok andiamo nel profondo del Grand Canyon e si giunge a qualcosa che hanno chiamato inconformità questo è ciò che i geologi hanno formulato l'inconformità è una cosa molto interessante qui è dove essa si trova dicono cos'è un'inconformità? l'ho detto prima in nessun luogo potete trovare la colonna geologica completa quindi in alcuni luoghi ci sono dei pezzi mancanti e qui c'è un caso del genere qui ci sono due aeree ma uno strato di roccia che dovrebbe essere lì nel Grand Canyon invece è assente ora ci sono due possibilità manca del fango oppure manca del tempo ci siete? se dite che manca del tempo loro direbbero oh c'è un problema il tempo non può scomparire quindi ovviamente il tempo deve essere lì perciò la scienza ci insegna che cosa accade? qui accade ovviamente che lo strato si formò e grazie al fatto che il tempo è un'essenza lo strato mancante deve essersi formato perché quel tempo era lì e poi ci deve essere stata una rapida erosione che ha eroso tutto in questo modo ed un altro strato si è depositato sulla cima ottenendo due strati con un pezzo nel mezzo che manca non c'è la polpetta tra le due fette di hamburger niente scomparso questo è affascinante è quello che insegna la scienza cosa lo ha portato via? qual è l'unica causa che lo ha portato via? l'erosione diamogli uno sguardo siamo qui c'è un periodo di tempo mancante qui nel Grand Canyon ed è stimato esservi una mancanza di 100 milioni di anni qui c'è un altro strato mancante qualcosa come 30 milioni di anni andati in fumo lasciatemi dare una prospettiva di tutto questo se consideriamo il tasso attuale di erosione su questo pianeta e misuriamo quanto terreno viene trascinato nell'oceano ogni giorno voi vivete qui vicino al fiume Mississippi il Mississippi sta scorrendo velocemente sì o no? no perché no? perché ovviamente sta trascinando del materiale verso il mare giusto? questo è tutto ciò che viene eroso e che finisce nel mare e questa è la sua fine ora la stessa cosa deve essere successa qui ci deve essere stato un periodo di erosione dicono che ha portato via allo strato ora quanto potrebbe essere stato portato via in un periodo di 100 milioni di anni? sapevate che con il tasso di erosione attuale se prendiamo il livello più basso per gli Stati Uniti che è circa 6 centimetri di superficie terrestre ogni mille anni ed il più alto si trova sull'Himalaya dove due metri di terra vengono erosi ogni mille anni a questo punto ci vorrebbero solo 10,2 milioni di anni per spazzare via l'intero continente nell'oceano usando il tasso più basso quindi 100 milioni di anni sono sufficienti per erodere l'intero continente il continente presente nell'oceano per almeno 9 volte è qualcosa di sorprendente ok quindi qui avete degli strati piatti con una parte mancante equivalente a 12 milioni di anni tra questi due strati 12 milioni di anni questo è sufficiente per trascinare l'intero continente nell'oceano una sola volta e questa è un'area vasta che si estende su tutto questo spazio e tra questi due strati l'uno e il sottostante non c'è niente sparito inoltre abbiamo tante dimostrazioni di movimenti di acqua questo avrebbe dovuto lasciare dell'erosione ma come vediamo qui è piatto tempo mancante tempo mancante assoluta piattezza ci sono 20 milioni di anni mancanti tra questi due strati 20 milioni di anni spariti piatto cosa è successo? ora se avete l'erosione questo è ciò che accade sì o no? perché l'erosione determina vallate e cose del genere qui ci sono tre strati che si trovano in Africa qui c'è una delle catene montuose ed è veramente una bella zona da guardare c'è uno strato un altro strato ed un altro ancora sulla cima vediamo un'altra immagine qui sulla sinistra diamogli un'occhiata attentamente uno strato alla base ora ricordate cosa insegna la scienza? questo è stato una volta cosa la superficie della Terra questa è la linea di contatto tra loro qui c'è il successivo e la linea di contatto tra loro milioni di anni dopo c'è il successivo che ora è in cima quindi esso sta subendo l'erosione a causa dell'esposizione vedete com'è gradevole e piatto? è piatto sì o no? no ha questa forma su e giù su e giù e così via perché? perché l'erosione lo ha ridotto in questa maniera ora se io ci mettessi un altro strato in cima diciamo che tutto ciò sia andato sotto l'oceano con la sovrapposizione di un altro strato sulla cima la linea di contatto tra i due sarebbe piatta oppure in questa maniera? come sarebbe? cosa dite? purtroppo sarebbe come figura qui perciò pensate sia possibile che questo sia mai stato una volta la superficie della Terra per un lungo periodo di tempo? e prima che voi possiate dire Jack Robinson si sarebbe sovrapposto lo strato successivo questo è possibile? ora questo cosa implica per la teoria dell'evoluzione cosa farebbe? creerebbe un grosso problema perché queste cose accadono in milioni e milioni di anni e gli stessi principi che vengono applicati oggi si applicano anche al passato quindi c'è un problema guardate questo qui c'è uno strato uno, due, tre e tutto ciò che era nel mezzo è svanito dov'è? beh è stato eroso ovviamente ok quindi se mettessi un nuovo strato sulla cima sicuramente non otterrei una linea di contatto piatta non sarebbe come questo l'erosione avrebbe un'immagine di questo tipo giusto? e se mettessi uno strato sulla cima avrebbe questa fisionomia giusto? ma ciò non accade avremmo invece questo tipo di conformazione ok pensiamoci diciamo che questo sia il Grand Canyon la parte nera è uno strato la rossa è un altro strato ma so che ce ne dovrebbe essere uno giallo perché è stato trovato in un'altra area ma non c'era nel Grand Canyon perciò cosa insegna la scienza? è stato spazzato via dalle erosioni giusto? e per milioni di anni non è stato trovato ma la linea di contatto è assolutamente piatta ma non sarebbe dovuta essere così bensì come questa ora questa è un'altra possibilità puniamo che questo non sia per niente del tempo e che questi siano solo strati di fango c'è uno strato di fango uno strato di fango mancante e uno strato rosso di fango mentre qui ne abbiamo uno nero uno giallo e uno rosso lasciatemi spiegare questo concetto ho tre secchi di fango qui di fronte a me uno contiene fango nero uno fango giallo ed uno fango rosso ora prendo questo grosso secchio di fango nero che ho e lo spargo per tutta questa stanza poi prendo il secchio con il fango giallo che è un secchio più piccolo del precedente lo spargo anch'esso ma solo qui di fronte a me ed infine prendo il grosso secchio di fango rosso e lo spargo per tutta la stanza ora ho qui di fronte eventualmente quando si asciuga faccio un taglio trasversale quanti strati vedo? tre poi in fondo faccio un altro taglio e quanti strati vedo? due perciò ovviamente in fondo è accaduto che milioni di anni di erosione hanno portato via lo strato intermedio giusto? oppure concorderete con me che io non avessi fango a sufficienza per arrivare in fondo vedete la differenza nella filosofia? la prima richiede del tempo la seconda parla di fango ora qual è la corretta visione? la Bibbia dice che ci fu un diluvio un diluvio mondiale questo è ciò che dice la Bibbia ora se è vero dovremmo aspettarci tanto fango sulla terra troviamo tanto fango sulla terra? sì tutto è fango sedimenti marini qui sulla terra dove dovrebbero essere? sul fondo dell'oceano lì non ce n'è abbastanza tenendo conto di qualsiasi tempo che sia passato è tutto sedimentato sulla terra ed è un po' tutto sotto sopra qui ci sono solo alcune pubblicazioni scientifiche 20 milioni di anni di clima ed erosione condizioni varie e poi dice la sopravvivenza di queste forme paleologiche è in un certo grado imbarazzante per tutti i modelli comunemente accettati sullo sviluppo del paesaggio questi sono scienziati che lo dicono vedete? abbiamo un problema ci sono tutti questi strati di fango e l'erosione sta avendo effetto tutto il tempo e guardate cosa abbiamo tutto è ancora lì dovrebbe essere andato via diverse volte perché è ancora lì? adesso daremo uno sguardo a questo tema nella prossima sezione per esempio gli affioramenti erano eccellenti ma anche l'ispezione più precisa ha fallito nel determinare la posizione precisa di quei 15 milioni di intervallo perché c'è un intervallo e non riesco a vederlo? questa è una domanda che necessita una risposta e vedremo tutto ciò tra un momento nella sezione precedente abbiamo parlato di questi strati incredibilmente piatti ed intervalli mancanti tra le rocce e ora vedremo come essi si siano formati per esempio qui ci sono altre pubblicazioni che parlano di immense e incredibilmente piatte aree della terra nel passato qui c'è una formazione in cui vediamo giacimenti di carbone nella roccia ora questi giacimenti sono anch'essi incredibilmente piatti ma questo non è in accordo con ciò che la scienza insegna riguardo al carbone che si forma attraverso processi naturali e coperto da detriti che poi eventualmente formerebbero i vari giacimenti che qui invece sono incredibilmente piatti abbiamo preservazioni meravigliose di materiali provenienti da piante e nelle rocce ci sono questi bei giacimenti di carbone e torneremo ancora a parlare un po' del carbone più avanti ma ancora notate come essi abbiano questa forma piatta tutto è incredibilmente piatto questo non è qualcosa che ci si aspetterebbe di ottenere attraverso processi naturalistici qui per esempio ci sono alberi sotto sopra nel carbone un'altra scoperta importante dice che non sembra esservi nessuna evidenza di esposizione all'aria tracce di profonda lisciviazione raschiature canalizzazioni e residui di ghiaie tendono ad essere mancanti anche se le rocce sottostanti sono composte da materiale soffice come il calcare perciò se ci fosse stata erosione tra gli strati perché essi sono stati la superficie della terra perché non la vediamo? non c'è nessuna evidenza di questo c'è solo piattezza e questo non ha senso e questo è ciò che chiamiamo torbidità diamo ora uno sguardo ad un modello alternativo questo è ciò che è chiamato corrente di fango sottomarina sapete che quando c'è del fango in acqua essa viene chiamata torbida fangosa e una corrente turbida è una corrente di fango sottomarina nel 1929 ci fu un terremoto in nord America ed un pezzo di continente si staccò e scivolò giù sotto l'oceano rompendo tutti i cavi e in questa maniera seppero la velocità con cui procedeva questa corrente e lo spazio intercorso era molto ampio dopo tre ore e tre minuti aveva percorso circa 300 miglia e ciò vuol dire che il fango andava ad una velocità di 100 miglia orarie sott'acqua ora immaginate di essere una piccola bestiolina o un pesce che nuota pigramente sul fondo dell'oceano ed un muro di fango spesso come il muro qui davanti arrivasse bruscamente verso di voi alla velocità di 100 miglia orarie che cosa vi accadrebbe? sareste fossilizzati in un istante giusto? questo è quello che accadde notate che abbiamo un modello qui immaginate che questa sia la superficie della terra largamente estesa con montagne che in scala avrebbero questa altezza tutto è sott'acqua e che cosa accadrebbe se ci fosse un terremoto ed un po' di fango iniziasse a fluire vediamo cosa accadrebbe e soffluisce notate in che maniera sulle colline nelle valli sulla cima poi inizia a stanziarsi e questo è il risultato è molto interessante esso cade nelle valli mentre forma degli strati sulle colline e questo consiste in fango soffice ora porremo un altro strato sulla cima di questo mentre è ancora soffice non aspetteremo milioni di anni affinché questo diventi roccia ok? lo faremo proprio ora mentre è ancora fango abbiamo un altro terremoto con del fango di colore diverso e questo procede come predetto guardate è dietro l'angolo si ingrossa in senso orario vedete? scende giù dalle colline su verso l'altro versante e fa la stessa cosa ora pensate sia possibile che si possa mischiare un po' del fango sottostante con quello dello strato sovrastante mentre arriva improvvisamente in questo modo? pensate sia possibile? sì è possibile questo è un altro che strappa un po' di materiale precedente e lo mischia successivo forse e lo strato si stanzia e non aspetteremo milioni di anni permetteremo solo che si stratifichi per poi deporne un altro in successione qui vediamo le valli che si riempiono sempre di più in ogni caso questo è ciò che sembra esservi sul fondo della colonna tra il cambriano ed il precambriano sembra proprio così un altro strato e un altro e un altro il tutto sta diventando piuttosto piatto e questo semplicemente scorre lungo il precedente perfettamente l'uno sopra l'altro ed infine diamo uno sguardo più da vicino cosa vedete vediamo uno strato sovrapposto all'altro e come sembrano le linee di contatto come sembrano piatte e specialmente sulla cima tutto è piatto e vedete che qui e là ci sono ad esempio delle piccole miscelazioni dello strato sottostante nel sovrastante bene se focalizziamo maggiormente cos'altro vediamo ok se guardate attentamente vedete che in questo strato nel particolare il materiale più pesante e grossolano è sul fondo perché? è più pesante e si deposita prima e il materiale più fine è più in alto perché è più leggero e ci mette più tempo per depositarsi tutto ciò è graduato dal più grossolano al più fine che è proprio ciò che accade in acqua se questo strato si fosse formato in milioni di anni attraverso piogge ed assorbimenti continui tutte queste cose sarebbero mescolate o sarebbero graduate dalle più grossolane alle più fini sarebbero mescolate se andiamo dal grossolano al fine dal basso verso l'alto cosa significa? come si è formato questo strato? catastroficamente bene se andiamo in natura e la osserviamo da vicino e questo serve centinaia di questi strati sono tutti uno sopra l'altro questi sono in Texas sono stati sollevati potete viaggiare in tutte queste regioni dalla vostra nazione per vedere esempi meravigliosi di questo ed essi sono stati una volta piatti e poi sollevati successivamente queste sono tutte turbidità e come lo sappiamo perché sono graduate dal grossolano al fine ce ne sono di enormi grandi che mostrano attività sconvolgenti qui ce n'è un altro e notate il materiale grossolano in basso che diventa più fine e qui abbiamo materiale fine e ci sono anche alcuni segni ondulati e questi hanno luogo sott'acqua poi c'è il successivo dal materiale più grossolano al più fine questo è in Nuova Zelanda abbiamo il materiale grossolano sul fondo poi l'insieme di ciottoli granulosi le linee di acqua e poi il materiale fine dopodiché inizia lo strato successivo in alto ma come si sono formati? lentamente o velocemente? si sono formati in un attimo sono strati di fango formatisi in un attimo ora se osserviamo il Grand Canyon troviamo una cosa molto affascinante dal basso verso l'alto tutto il canyon è graduato dal grossolano al fine e questo vuol dire che tutto deve essere accaduto in un periodo di tempo molto breve ora gli scienziati direbbero aspettate un attimo ci sono regioni evidenti nella colonna geologica dove si può dire esservi stato un periodo di desertificazione e questo come si può conciliare in questo contesto acquatico ci sono siti come questi nello Zion National Park per esempio che dichiarano che sia stato un periodo arido e questa qui è una duna del deserto c'è un problema qui perché le dune del deserto non diventano mai così grandi perché non lo possono essere nell'aria ma sott'acqua possono perciò hanno iniziato a studiarla in dettaglio e osservando la modalità con la quale i vari strati la componevano arrivarono alla conclusione che dopo tutto essa si era formata in acqua perciò cosa accadde assumiamo di avere un continente e che le montagne che ci sono qui adesso non esistevano quindi tutto appariva diversamente con grandi mari tra la terra e poi i bacini oceanici ed un tratto qualcosa accadde e tutto il continente fu spinto sotto il mare questo vuol dire che il mare ha sommerso la terra e tutti i sedimenti nell'oceano si sono depositati sulla terra e perciò si è ottenuto che i sedimenti dell'oceano si sono mischiati con i sedimenti dell'acqua più fresca qui sulla terra e poi è accaduto il contrario il continente è riemerso si sono formate delle piegature si sono formate catene montuose ed anche nuovi bacini oceanici ora i sedimenti che erano nell'oceano sono ora sulle cime della terra e li potete vedere sulle catene montuose in tutti i luoghi e questo è proprio ciò che vediamo i sedimenti sono sulla terra invece che nell'oceano ma come sarebbe dovuto essere se l'oceano fosse stato lì intorno per centinaia di milioni di anni dove sarebbero dovuti essere i sedimenti sul fondo dell'oceano e non lì sono sulla terra e questo è molto strano ora diamo uno sguardo a questi strati ci sono due strati nel Grand Canyon uno è chiamato Coconino Sandstone e l'altro Hermit Shale e si possono dire molte cose sono di due colori diversi e si possono vedere alcune strutture interessanti come questa è chiamata la fiamma qui c'è uno strato e qui c'è l'altro e qui c'è una miscelazione evidente riuscite a vedere che questo qui è come se fosse stato frullato nello strato sovrastante riuscite a vederlo? qualcosa avrà provocato questo movimento circolare ed ha mescolato materiale dello strato sottostante nel sovrastante e li ha miscelati ma se questo strato sottostante fosse più vecchio di milioni di anni rispetto a quello sovrastante sarebbe potuto accadere sì o no? mai questo è un incubo per la geologia perché non può essere spiegato se non per mezzo di una catastrofe accaduta in acqua oppure posso comprimere uno strato sovrastante in uno sottostante insinuandolo non rompendolo se quest'ultimo non fosse stato soffice è impossibile riuscirei a piegare catene montuose come queste? potrei prendere gli strati e rivoltarli come qualcosa del genere? no a meno che gli strati non fossero stati morbidi ora ricordate che la scienza dice che ogni strato è stato una volta la superficie della terra ed ogni strato rappresenta milioni di anni trasformati in rocce come hanno potuto curvarsi senza rompersi in milioni di pezzi è impossibile a meno che gli strati non fossero morbidi perciò come risolve questo problema la scienza? dicono bene deve essere andata così tutto era roccia ma ci fu un periodo di depressione dei continenti verso il centro caldo della terra lì divennero liquidi ed infine vennero di nuovo fuori e si piegarono su se stessi ma qui c'è un problema ci dovrebbero essere delle evidenze di questo calore sulla roccia ma la maggior parte di queste rocce sono sedimenti nessuna evidenza di questo calore né vulcanismi solo acqua fango e fossili niente calore e tutto si è piegato in questo modo quindi lo strato deve essere stato soffice questa è un'altra cosa interessante è un dito che si innalza attraverso un altro strato di fango è ovvio che sia casuale questo strato è soffice perciò si è creato un canale e lì si erge questo dito che fa lì da dove viene se diamo un'occhiata agli strati questo è il Kodakron Basin qui negli Stati Uniti vi sono diversi strati e da uno tra quelli che ci sono sul fondo in qualche modo ha prodotto delle colonne che si sono fatte strada fra gli altri strati e si sono solidificati perciò questo qui ad esempio è passato attraverso questo strato poi questo poi questo e poi si è fermato e così gli altri successivamente è avvenuta l'erosione che ha portato tutto via ed in tal modo sono apparse le dita questo è molto intrigante immaginate di avere due strati di vetro ad esempio in cima ad un tavolo ho un tubo di dentifricio lo pongo sotto gli strati di vetro e poi lo comprimo cosa accade al vetro? guardando dalla parte superiore vedrete una grande macchia piatta giusto? perché il dentifricio non può passare attraverso il vetro in quanto solido ora lo stesso è con questi strati di roccia se dico che gli strati sul fondo stanno diventando soffici e stanno schizzando verso l'alto come potrebbero attraversare gli altri strati se fossero composti da roccia solida? come dovrebbe presentarsi il fango? piatto ma non è così si presenta come dita attraverso tutti essi cosa vi dice questo? vi dice che quando questo accadde era tutto soffice perciò inizialmente erano tutti stesi poi vi è stato un terremoto che ha comportato pressione sugli strati e quindi la formazione di colonne che successivamente si sono sovrapposte e poi asciugate per dar loro questa forma ed ora le troviamo così sempre con il presupposto che fossero tutti soffici sono lì fermi come sarebbero dovute essere se date uno sguardo qui al Grand Canyon questa è un'altra area interessante esso si estende su un'area sopraelevata e qui c'è il Canyon ora i fiumi non scorrono sulle colline ma qui nelle valli qui scorrono sulle cime come è potuto accadere come è potuto accadere che fiumi si siano potuti trovare lì sulle cime delle montagne non può accadere perciò qualcosa deve essere accaduto affinché si formasse uno squarcio attraverso il quale l'acqua si è scorsa inoltre gli strati che osserviamo sono indicativi di una grande catastrofe come il diluvio e guardando il Grand Canyon che cosa ha trascinato via tutto ciò dei fiumi che scorrevano sui colli ciò non accade tutti questi strati qui che come abbiamo visto devono essersi depositati velocemente e questa enorme massa di materiale è stata spazzata via in maniera rapida o lenta guardate il Zain Canyon chi ha camminato attraverso esso è magnifico mentre si cammina attraverso questo canyon bisogna stare attenti che non arrivi un altro diluvio e con il proprio corpo si riesce a toccare entrambe le parti del canyon mentre si cammina wow è magnifico e poi guardiamo questi altri canyon e pensate wow come si sono formati in maniera rapida o lent ora andiamo in Africa e questo è come il canyon della Namibia si è formato lì siamo nella regione del Fish Over Canyon bellissime forme realizzate dall'erosione increspature e di nuovo immagini dettate in acqua da ogni parte e qui c'è il canyon guardate bellissimi canyon a forma di V che girano tutto attorno non è impressionante il Grand Canyon ma non tutti possono essere d'accordo con noi questa è l'origine di un canyon qui arriva il fiume con una grande cascata che poi fluisce in questo bellissimo canyon riuscite a vedere che esso ha la forma di V lo vedete? un canyon a V ora abbiamo visto che il canyon fish over è a V questo canyon è a V ed anche gli altri canyon nel mondo sono a V bisogna stare attenti quando si cammina in questi luoghi perché ci sono creature estremamente pericolose questo è un cobra giallo e ci sono alcune meravigliose figure provocate da erosioni visibili qui più queste questi sono buchi lasciati dall'acqua qui c'è un altro quindi qui qualcosa li ha svuotati quando il fango era ancora morbido oppure è accaduto qualcos'altro la scienza vi direbbe che quello che è accaduto qui è che durante un flusso d'acqua c'era una pietra lì che ha scavato ripetutamente fino a formare un buco questo è un bel buco circolare e qualcuno come me potrebbe anche sedersi nel mezzo in questo modo qualcuno come questo è sopra ad una montagna molto alta l'acqua fluisce a queste altezze in maniera tale da formare quei buchi oppure questo costituisce la dimostrazione di un diluvio recente qui c'è il fiume colorado e notate che è di nuova forma di V potete vedere che hanno una bella forma a V ora uno scienziato ha pubblicato in scienza generale un articolo dove dice abbiamo un problema se questo ha forma a V esso dovrà essere stato rapido non potrebbe essere stato lento perché al contrario si sarebbero creati sotto squadri e si sarebbe depositato perciò tutti questi canyon devono essersi formati istantaneamente rapidamente perciò è accaduto rapidamente questo lentamente ma cosa lo ha portato via? cosa è successo? questo è un altro canyon che si è formato istantaneamente è un canale che ha forma a V ed è recente quindi si è formato in tempi moderni e questo è il Bryce Canyon chi è stato nel Bryce Canyon? wow dovete andarci per forza è un posto fantastico quindi se andiamo su queste alte regioni montuose e date uno sguardo a queste aree scavate notate questa grande massa portata via ed un uomo come scala di riferimento è affascinante ciò che è successo qui tutto ciò che era nel mezzo è stato spazzato via tutto l'erosione lo ha sradicato lasciando tutti questi magnifici monumenti sotto l'attività dell'acqua questa è la valle dei monumenti notate queste montagne che si ergono in questa valle una volta questi erano fogli piatti uno sopra l'altro ma cosa ha portato via tutto tra di essi? cosa dice la scienza? milioni di anni di erosione ma naturalisticamente parlando quando li osserviamo potrebbe essere possibile che questo sia stato il frutto di erosione rapida invece che di milioni di anni qui ci sono altri monumenti tutto nel mezzo non c'è più mentre questi sono rimasti lì stabilmente guardate questi due che sono l'uno accanto all'altro come i due torri di raffreddamento di qualche industria magnifiche stanno lì e tutto ciò che era nel mezzo non c'è più milioni di anni di erosione lo hanno spazzato via ma questi due sono lì fermi come se dicessero noi non andremo con il resto questo ha senso? o questi che sono i gemelli Neverhood ed ogni cosa intorno non c'è più ora ci spostiamo in un'altra area in Africa e questa è la terra Passutu dove c'è un'immagine interessante che si è formata in una tempesta di pioggia notate che l'acqua piovana è arrivata ed ha portato via tutto il materiale lasciando una montagnetta lì una lì una lì ed un'altra lì e lì un paio lì ed una catena qui questo è ciò che è accaduto in una sola tempesta di pioggia ora perché queste sono rimaste mentre il resto è stato portato via immaginate questo l'acqua fluisce portando via il terreno e scava questi canali portando via il fango ed improvvisamente la pioggia finisce e cosa succede? l'acqua finisce e prima che tutto possa essere spazzato via il terreno si asciuga lasciando queste montagne e questo è proprio ciò che si osserva nella valle dei monumenti sì o no? è esattamente la stessa immagine in una scala più piccola questo è un altro piccolo canyon che si è formato con una sola tempesta di pioggia questa è un'altra notate la forma a V che è sempre la stessa questa è un'area bellissima è la sideberg e qui la montagna è stata divisa in colonne e si può letteralmente entrare all'interno di una di queste colonne e camminare attraverso la montagna spettacolare quando entrate sembra una cattedrale con grandi archi come questi sopra di voi e potete camminare in quest'area sotto gli archi e qui potete anche vedere gli strati di fango uno due grossi strati depositati l'uno sull'altro su queste superfici piatte tra di loro e se guardate al di sotto in queste fessure potete vedere delle persone camminare attraverso esse che attraversano letteralmente la montagna cosa ha portato via questo materiale? non ci sono fiumi che scorrono lì attualmente a meno che milioni di anni abbiano portato via quest'area oppure ciò è accaduto rapidamente e questo è il risultato ora anche in queste montagne ci sono queste figure ma ci sono anche dei canali intorno esse hanno sicuramente delle fessure che la attraversano da cima a fondo ma qui c'è qualcosa di totalmente differente se guardate attentamente potete vedere che queste montagne si sorreggono su pilastri lo vedete? e qui lo stesso la montagna è letteralmente sostenuta da pilastri questa è una vista ravvicinata quindi in pratica ciò che stiamo facendo qui non è camminare tra fessure sulla cima della montagna adesso stiamo camminando sotto la montagna state camminando attraverso una cappella di pilastri è chiamata Town Hall perché ci sono questi pilastri ma questo è strano non ci sono fiumi o altro lì qual è la causa di questo? com'è successo? abbiamo questi giganteschi blocchi montuosi che si reggono su pilastri e tutto tra essi non c'è più ed ora si può camminare attraverso esse ora immaginate questo immaginate di avere questi grandi strati di fango uno sopra l'altro coperti da acque che poi fluisce via dal terreno perché si stanno formando i bacini oceanici ed i continenti stanno venendo alla luce e queste gigantesche masse di acqua squarciano la terra formando canali e mentre i bacini sono più in basso il livello dell'acqua cosa fa? scende rapidamente perciò un ammontare di fango si innalza sopra il livello dell'acqua nel momento in cui quest'ultimo cala rapidamente l'acqua scorre velocemente sul fondo così velocemente che inizia a fare cosa alle montagne fenderle dal basso creando dei canali sottostanti in ogni direzione formando questi pilastri con grossi ammassi di fango su di essi e prima che tutto fosse spazzato via provocando un crollo cosa accadde? l'acqua è terminata il terreno si asciuga ed abbiamo le montagne sorrette da pilastri se osservate i confini oltre i quali l'acqua deve essere passata noterete dei grandi blocchi di roccia che si ergono in questo modo ma notate questo l'erosione è avvenuta nella parte sottostante in questo modo non ci sono fiumi qui l'erosione è avvenuta nel basso è come se ci fosse stato qualcosa che abbia portato via i lembi rocciosi ed avessi continuato così con l'acqua che scorreva attraverso di essi portando via la parte sottostante e sarebbe riuscito a portare via tutto ma poi cosa è accaduto? l'acqua è finita ed è rimasta la roccia questo è come riusciamo a spiegare delle immagini come queste abbiamo queste reliquie dove nei dintorni non vi è più nulla questo è come riusciamo a spiegare le magnifiche strutture che trovate in Zimbabwe ad esempio questo è come spieghiamo le magnifiche immagini dove ci sono queste rocce che rimangono in equilibrio una sopra l'altra e ci chiediamo come sono arrivate lì se queste fossero state reliquie di enormi strati precedenti che poi sono stati spazzati via prima che tutto ciò crollasse l'acqua sarebbe terminata questo è ciò che spiega tutto spiegherebbe anche questa roccia in Australia ora ci rimane solo un problema la scienza dice che tutto ciò è buono e giusto ma c'è un problema sicuramente ci sono voluti milioni di anni affinché questi strati abbiano formato roccia solida ora qui c'è qualcosa di interessante abbiamo una pentola di ceramica ed una bottiglia incassata in una pietra solida che provengono dall'HMS Birkenhead che affondò a largo del punto di pericolo nel 1852 fondamentalmente avete due possibilità la bottiglia ha milioni di anni oppure questa roccia non ha milioni di anni ma adesso sappiamo quanti anni ha e sappiamo che deve essersi formata rapidamente qui c'è una campana una campana da nave incastonata in roccia solida quindi dovete sapere se credere che la campana abbia milioni di anni o che la roccia non abbia milioni di anni salattiti e stalagmiti chi è mai stato in una caverna una grande caverna da qualche parte degli Stati Uniti cosa vi hanno detto quanti anni hanno queste salattiti e stalagmiti loro vi dicono che hanno milioni di anni è corretto ok qui ce n'è una che si è formata quando l'acqua è stata pompata in quest'area ed è cresciuta davanti ai loro occhi perché l'acqua era molto ricca di carbonato di calcio e si è subito formata qui ce n'è un'altra o più di una in cui vedete due persone stare lì sotto sono minatori e questa è una miniera che è stata abbandonata per quasi 30 anni e queste sono le stalattiti e le stalagmiti che si sono formate in questa miniera ora abbiamo il bisogno di assumere che questa miniera abbia milioni di anni o che queste non abbiano avuto il bisogno di così tanto tempo per formarci cosa può essere? noi sappiamo che questa è una miniera e che ci sono voluti 30 anni e questo è il risultato infatti io passo sotto un ponte quando vado al lavoro e alla base del ponte pendono queste grosse stalattiti lunghe ed ogni volta che passo sotto questo ponte mi chiedo wow chi avrà costruito questo ponte di milioni di anni? perciò un'immagine può veramente dire migliaia di parole c'è un ultimo esempio e questa è una gemma e sicuramente essi hanno bisogno di molto tempo per formarsi questa è malachite la malachite è una pietra semipreziosa che troviamo in Africa è una pietra per ricchi viene usata dai ricchi medici che è da loro una connotazione magica è una magnifica pietra verde e si forma in zaire più precisamente in Congo e ci sono le miniere lì da dove questa viene estratta essa si forma in colonne come queste quindi assomigliano alle stalattiti e alle stalagmiti e si formano quando tutti gli elementi giusti sono nella roccia è molto costosa e qui c'è un pezzo che è stato inviato agli Stati Uniti dall'Africa e si è rotta in tranci perciò un pezzo come questo di circa 20 centimetri non molto grande costa intorno ai 26.000 dollari americani ed è un materiale costoso quando si è rotto lo hanno mandato indietro ed il commerciante mi ha chiamato e mi ha detto è un disastro vieni dai uno sguardo così sono andato ho guardato e lì c'era un filo riuscite a vederlo? che spuntava fuori dalla roccia e allora ho detto al commerciante sai qui c'è un filo ed è molto strano vi importerebbe se vedessi una roccia da 26.000 dollari e vi rompessi anche il successivo? scoppiereste a piangere letteralmente si parla di tanti soldi no? ma sono andato l'ho rotto ed immaginate cosa vedete all'interno? andiamo più vicino cosa vedete lì? è un altro filo e se vedete il materiale è malachite non c'è alcun trucco questa è perfetta malachite ora abbiamo un'opzione questo filo ci sta dicendo che è stato lì per milioni e milioni di anni oppure c'è un'altra opzione i minatori possono aver scoperto che se mettono un paio di fili e permettono all'acqua di scorrere sulla roccia essi agirebbero come centro per la rapida formazione e la pietra si formerebbe rapidamente quindi ho detto al commerciante da dove hai preso questo materiale? l'ho preso in Zaire ma questo è meraviglioso puoi ottenerne dell'altro? ha detto no è finito e io ho detto allora è una grossa opportunità troviamoli e chiediamo se possiamo ordinarne dell'altro ma lui ha detto che non ne hanno e io chiediamo quanto tempo ci vuole per averne dell'altro perciò è riuscito a contattarli e ha chiesto loro quando avrebbero potuto mandare altra malachite e loro hanno detto che era finita quindi lui ha chiesto loro quanto tempo ci vuole perché possiate mandarmi un altro segmento e loro hanno risposto di che lunghezza la vuoi? questa è una domanda interessante non credete? di che lunghezza la volete? cosa c'entra la dimensione quando bisogna trovarla in una miniera? e quindi gli ho detto la stessa lunghezza e quindi lui ha detto beh circa 20 centimetri e loro sono stati in silenzio per un attimo e poi hanno detto potremmo trovarla in circa tre mesi perciò quanto tempo ci vuole affinché si formi questa roccia? tre mesi abbiamo bisogno quindi di milioni e milioni di anni perché tutte queste strutture si formino? la Bibbia dice in Romani 1,20 infatti le sue qualità invisibili la sua eterna potenza e divinità essendo evidenti per mezzo delle sue opere fin dalla creazione del mondo si vedono chiaramente affinché siano inescusabili quindi se andate e osservate forse potete vedere delle cose che vi potrebbero dire che alla fine la Bibbia dopo tutto non ha tutti i torti questa è la linea di base di questo testo abbiamo visto alcune di queste immagini abbiamo analizzato il tema del tempo abbiamo visto la cosmologia abbiamo visto i pianeti le stelle e tutte le teorie per capire da dove tutto ha avuto origine nei termini di tutte queste cose ma non abbiamo visto nel dettaglio se alla fine questo diluvio è stato universale questo è un problema vedete la scienza ha la volontà di considerare qualche dimostrazione che hanno trovato e dire ok siamo in trappola noi abbiamo ammesso di avere un problema ma noi riconosciamo solo delle catastrofi locali noi diciamo sì c'è la possibilità che quell'immagine lì si sia formata durante una catastrofe locale e che quell'altra lì si sia formata durante un'altra catastrofe locale ma riguardo ad un diluvio universale scordatevelo perché? perché è imperativo e pensate a questo perché è imperativo per la scienza negare il diluvio universale perché? vi dirò il perché perché se ci fosse stato un diluvio universale in un tempo passato non molto lontano se avesse distrutto tutta la superficie della terra e poi fosse finito volendo rimanere in ambito naturalistico cosa dovremmo farne della teoria evoluzionistica da questo momento in poi? dovremmo iniziare tutto di nuovo siete con me? perciò è impossibile per la scienza moderna concepire un diluvio universale impossibile se ce ne fosse stato uno grosso problema la continuità della linea geologica con tutti i loro fossili sarebbe interrotta tagliata di netto e si dovrebbe iniziare tutto di nuovo e questo è inconcepibile quindi rimanete per la prossima lezione nel frattempo prendetevi una pausa e poi vedremo la possibilità di un diluvio universale contro la scienza che dice no al diluvio universale infatti loro non possono concepire un diluvio universale questo potrebbe essere interessante rimanete qui perché questo è ciò a cui i vostri bambini sono soggetti ogni giorno nelle loro scuole in televisione in musei ed è tempo invece che si dia uno sguardo all'altra versione della storia in maniera tale da poter fare una scelta intelligente senza le due versioni non può esserci una scelta ciò che voglio dire è esponetevi così che possiate ridicolizzare o accettare in base alla vostra volontà grazie per l'ascolto